Punto Sud, Mezzogiorno Reale, Mezzogiorno Immaginato, nasce insieme a Svimez, la più accreditata associazione che si occupa di Mezzogiorno, per rilanciare l'attenzione sul Sud. Di Sud in realtà si parla poco, se ne parla poco a livello politico, se ne parla poco a livello di dibattito pubblico, se ne parla poco addirittura nel Sud stesso. Quindi lo scopo è accendere una luce su alcune tematiche fondamentali. Ci sono tutte le tematiche o molte delle tematiche classiche del dibattito sul Sud, il disagio sociale, l'emergenza educativa, il problema delle infrastrutture, il problema dell'autonomia differenziata e altri, ma tutto viene incrociato anche con le tematiche di questo straordinario successo che il Sud ha avuto in campo culturale, nelle fiction televisive, nella narrativa, nel cinema, che è paradossalmente dissonante rispetto al silenzio che c'è dal punto di vista politico e dell'azione pubblica. Una contraddizione per riaprire un discorso. Il Festival Punto Sud si terrà a Bari dal 26 al 28 di ottobre e avrà diverse dislocazioni in città e prevede anche delle proiezioni cinematografiche e di documentari di writing.